Il dato del CAI di Tortona, giusto? Buongiorno, due considerazioni anche per quanto riguarda il tema generale. Io ho una domanda da fare ai relatori stupendi e magnifici, ma questi dati è mai possibile che li abbiamo solo noi? E' una cosa che non riesco a comprendere e allora bisogna assolutamente che tutti i comuni facciano fronte comune su questi dati, perché sono dati reali, sono dati presi dal progetto, sono dati presi da studi. Ecco, i comuni, le istituzioni hanno tutti gli strumenti tecnici e politici per poter raccogliere quello che serve, perché è impossibile non comprendere il disastro che stiamo creando. Qui si parla di spopolamento dell'Appennino, si parla di spopolamento delle nostre montagne, ma non ci vengono più, ma non ci vengono più. Abbiamo pari a mettere su delle big bench e dei grandi sedioloni per vedere il panorama, metteremo delle grandi sedi per vedere le pale eoliche, ma non avremo più il turismo per il quale si spendono soldi, per il quale c'è un intervento, una forza anche della popolazione e di chi opera in queste varie. E allora è necessario veramente fare fronte comune, fare fronte comune. Io non credo che noi abbiamo la forza istituzionale, noi non l'abbiamo come CAI. Non so se il comitato ce l'ha, piacerebbe che l'avesse e anche tutte le altre strutture che mettiamo assieme. Ma i comuni sì, ma i comuni sì, ma la provincia sì, ma la regione sì. E si sono espressi tutti nello stesso modo. È un incontro di astri meraviglioso. Forse non ce l'abbiamo mai fatta. Ebbene, questa volta bisogna portare a casa effettivamente il carico, perché altrimenti non serverebbe a niente.